Satchmo S, Pick and Go, Tenerife, Puma di Girifalco, Roger, Waters, Ribot e K, questi componenti della prima fila Paul Degree, Telecomando OK, Rudy Buck, Ruben Senne, Seattle Bean, seconda fila, non corri numero 6, Ursus Spin quindi 6 in prima fila, 5 in seconda, allineamento direi che sfiora la perfezione la macchina che prende velocità ed è ormai prossima a staccare Puma di Girifalco che si avvantaggia lungo la corda, è veloce però anche Satchmo a S, allargo, Ribot e K, poi Tenerife che ripiega Puma, Satchmo, Tenerife, Ribot allargo all'esterno risale anche Rubens Enne, dopo aver lanciato bene la seconda fila, Ribot e K, sfila su Puma di Girifalco 13,6, primi 200 metri vediamo se ora Puma andrà a richiedere strada, Ribot e K, intanto in terza ruota Roger Waters allargo di Rubens Enne, il passaggio ai primi 400 metri, Ribot al comando, Puma di rincalzo Roger Waters che risale, dopo aver aggirato Rubens Enne va ad incalzare Ribot e K, terza pariglia esterna per Rue du Bac, il passaggio ai primi 600 metri in 43,8 ma sulla penultima curva, gruppo disposto in doppia fila, Ribot al comando su Puma e Satchmo poi Tenerife in quarta posizione alla corda, treno esterno capeggiato da Roger Waters che è seguito da Rubens Enne, Rue du Bac e poi Pick and Go, nella scia di Pick and Go anche telecomando, ok il primo chilometro in 1,13,4, Roger Waters attacca, Ribot e K si difende Puma di Girifalco segue lungo la corda con allargo Rubens Enne che è richiesto poi Satchmo AS che per il momento non ha spazio, allargo Rue du Bac, quindi Tenerife e Pick and Go 400 alla conclusione con Ribot e K che cerca la fuga, in difficoltà Roger Waters terza per Rubens Enne, di dentro guadagna Puma di Girifalco seguito da Satchmo AS la retta di arrivo con Ribot e K al comando, Puma di Girifalco che lo fila 200 dal palo, Puma si affaccia su Ribot e K, prova ad intervenire anche Satchmo AS Puma di Girifalco che attacca Ribot e passa in vantaggio, Puma in vantaggio Satchmo che attacca e guadagna qualcosa sul palo, Puma su Satchmo per il terzo probabilmente Paul Digri che è sbucato dal nulla stavolta non è andata come ieri eh, Tutankamon MRS sembrava avesse vinto la Trisse già il frustino al cielo e poi Teodoro che lo stampa, stavolta invece Marcello il frustino al cielo lo può alzare con Puma di Girifalco che passa in vantaggio e comanda forse memore della retta di arrivo di Napoli con Puma per salvarsi fino in fondo dal finale di Satchmo AS un'incollatura di vantaggio per Puma di Girifalco che vince in uno cinquantasei e mezzo, dodici otto, dodici e nove alla media al chilometro i colori sono della scuderia napoletano, training e guida di Marcello Vecchione quota al totalizzatore di 3,92 e un'esercizio ovale Grazie.